5, 4, 3, 2, 1, poi di 3 corta, a 5 corta, di 5 lunga 40, a 4 corta chiude, 4 corta chiude, di 5 corta, di 3 corta, a 2 corta, di 4 apre 5, cartello a 3 corta chiude molto, 2 tempi, di 5 corta, di 3 corta chiude, a 3 corta chiude molto, di 4, a 3 corta galleria, 70, a 3 corta chiude molto, a 4 corta, di 3 chiude molto, a 4 chiude, di 5 lunga 20 chiude, di 4, a 3 corta, di 4, rail a 2, di 5 in, di 3 corta in, a 3 corta, di 2 gira, a 5, di 4 corta, a 4 chiude, in, a 2 gira, di 4 in, a 3 corta chiude, 3 corta chiude, di 4 corta, di 4 corta, di 5 corta, di 4 chiude, a 5 lunga 30, rail, di 4 corta, di 4 corta, in, a 4 corta, di 5 corta, a 3 corta, di 3 chiude, 50, migliore di 2, a 4 corta, in, a 5 corta, in, di 5 lunga 50, chiude, 4 chiude, a 3 corta, in, di 3 corta, in, di 3 corta, chiude molto, a 3 corta, chiude molto, di 5 corta, occhio, stringe, a 4 corta, in, di 4 corta, a 3 corta, chiude molto, in, a 4 corta, di 4 corta, in, di 5, in, a 4 corta, chiude, di 3, a 5 corta, in, di 5 corta, di 5 lunga 20, chiude e 4 corta, mossa, occhio, occhio, di 5, a 5 corta, di 4 corta, mossa, a 3 corta, chiude molto, a 3 corta, a 3, chiude molto, di 4 chiude, 50, pom, 0,5 stesso tempo, e quindi si trunce 8 di 4 corta, chiude in, a 4 corta, chiudeц 한번, è bene la